Ok Di schiena Rilassati di schiena Lato a lato Girati lato a lato Ok Fronte giudici Tutti indietro Tutti indietro Vengono avanti il numero Due, dodici, ottantotto Numero due Numero dodici Numero dodici Numero ottantotto L'ottantotto di fianco al dodici Ok Doppio bicipite Ora Gerdo Doppio bicipite Doppio bicipite Doppio bicipite Do sali Doppio bicipite Giaudici Doppio bicipite Doppio bicipite Adoptio bicipite Di fianco al torace. Precipite. Di schiena, doppio picipite. Due sali. D'avanti il gamba addome. Molto bene, grazie. Avanti gli altri quattro atleti. Numero tre, quattro, otto e ventuno. Doppio picipite. Vai Davide!